Ho deciso di venire al festival quando mi sono reso conto di avere una canzone che portava un messaggio e che voleva raccontare un aspetto del mondo che stiamo vivendo oggi e della grande scelta di fronte alla quale siamo tutti noi in questa situazione sia mondiale ma sia anche italiana proprio come paese e sia proprio individuale come persone perché è un momento particolare in questo 2020 è come se il futuro e il presente combaciassero ed ecco che ci troviamo di nuovo di fronte come in altri casi nella storia e questo il pezzo lo racconta a dover prendere appunto una decisione o comunque a dover fare una scelta per raccontare poi al futuro ai più piccoli quello che effettivamente è stato il mondo e per potergli poi lasciare anche un qualcosa di buono o almeno questa è la speranza. La canzone è scritta per aprire a delle domande, porre dei quesiti e quindi chiedersi se questa scelta la faremo insieme la faremo ognuno per conto proprio e aprire insomma delle discussioni, questo è il tentativo che ogni canzone che scrivo in un certo senso cerca di fare. Anche l'altro anno è andata così nel senso che anche Argento Vivo nasceva da un'esigenza personale di raccontare un determinato tipo di cose e credo che ogni volta che una persona vada a Sanremo debba portare una canzone scritta per raccontare, per raccontarsi probabilmente senza neanche sapere di doverla portare al festival questo forse è la ricetta forse per le canzoni che poi al festival riescono a comunicare qualcosa. Ma una scelta anticonformista che ho fatto in vita mia è ad esempio quella di non diminuire mai il livello di complessità di alcune cose che scrivo, anzi vederlo quasi come un punto di forza, proprio perché è un mondo che tende a velocizzare la creazione delle cose per essere usufruite immediatamente e quindi fondamentalmente credo che sia necessario che a volte si aumenti il livello di complessità, sia anche giusto. Eden è nata da un sogno, da una visione diciamo in una fase di dormiveglia dove questa mela che si è staccata dall'Eden ha iniziato a rotolare per tutta la storia dell'umanità. Io è come se fossi diventato per un attimo un detective, che avessi viaggiato nel tempo, cosa di cui sono un grande esperto, e in questi viaggi nel tempo abbia raccolto tutte le mele, quindi le scelte che l'uomo ha fatto per poi raccontarle ed arrivare fino alla scelta che abbiamo da fare oggi. Il mio parere sui limiti di espressione è che non dovrebbero esserci, o comunque dovrebbero, bisognerebbe pensare molto bene al fatto che l'arte non può essere sempre piacevole e che se fosse così non sarebbe proprio un'espressione artistica al 100%, nel senso l'arte è specchio del mondo, quindi nel momento in cui un'operazione creativa deve essere per forza giusta, già è veicolata da una morale che potrebbe comprometterne la sincerità. E quindi credo che se uno dovesse eliminare tutte le opere disturbanti, nel mondo dovrebbe eliminare il 50% delle opere, dei film, delle statue e della musica. Ed ecco qual è il mio pensiero. Il mio pensiero è che tornare a parlare di un certo tipo di argomenti secondo me non è fare un passo avanti ma è fare un passo indietro e molto probabilmente è un qualcosa che apre a delle discussioni ma non per l'interesse nostro, per l'interesse di qualcuno che in realtà cerca di strumentalizzare soltanto questo tipo di polemiche. Qui rancore e volevo invitarvi ad ascoltare Eden e a dirvi che oggi è uscita anche Luce, che ieri abbiamo fatto sul palco dell'Arison insieme a Dardas e la rappresentante di lista e seguite l'ancore, seguite Eden, guardate il videoclip e seguiteci in queste ultime due serate del Festival di Sanremo.